Si rivela sempre molto delicato dover affrontare delle notizie che hanno un'importanza rilevante come in questo caso per tutta l'area del Golfo di Castellammare. Notizie come quella di cui sto per parlarvi è che in un periodo di campagna elettorale qual è l'attuale che riguarda il comune di Castellammare del Golfo come molti di voi sanno infatti si apre la corsa per le amministrative comunali a Castellammare diventa molto molto complicato riuscire a parlare di certe situazioni e soprattutto annunciare certe notizie però se ne parla da tantissimi anni e attualmente sembra che si stia facendo qualche passo avanti. Di che cosa si tratta? Del depuratore di Castellammare del Golfo. Qui al Belvedere di Castellammare non mancano le visite turistiche e non mancano mai vedute mozzafiato come quella che vi posso offrire con queste immagini. Chiaramente anche i territori che si affacciano sul Golfo di Castellammare soprattutto in questi anni stanno cercando di fare dei passi avanti per dotarsi di servizi basilari in tema soprattutto di accoglienza turistica ma servizi soprattutto basilari per quanto riguarda il rispetto dell'ambiente e di conseguenza il depuratore comunale di Castellammare è una grave mancanza alla quale si deve cercare al più presto di ovviare. E' stata infatti completata la progettazione esecutiva del nuovo depuratore comunale di Castellammare del Golfo. Il prossimo step avviato è la procedura di autorizzazione regionale che ingloberà tutte le autorizzazioni per poi avviare i lavori. Lo ha comunicato il subcommissario per la depurazione Riccardo Costanza al sindaco Nicolò Rizzo, agli assessori, al presidente Mario Di Filippi e ai consiglieri comunali presenti all'incontro svoltosi questa mattina nell'aula consigliare di Palazzo Crociferi. Secondo quanto fa sapere il comune di Castellammare occorrerà attendere almeno un altro anno e poi dopo oltre mezzo secolo il depuratore potrebbe finalmente vedere la luce. Una pietra a miliare per la realizzazione del depuratore atteso da troppi anni evidenzia il sindaco Rizzo perché avere il progetto esecutivo significa procedere speditamente con l'iter e ottenuta l'approvazione della procedura di autorizzazione regionale il progetto sarà finalmente cantierabile. Un progetto avveniristico e rispettoso dell'ambiente e del risparmio energetico come ci hanno indicato oggi il subcommissario Riccardo Costanza e i progettisti prosegue il sindaco di Castellammare che ringrazio per la disponibilità e attenzione alle nostre continue sollecitazioni. Presenti anche l'ingegnere Rosanna Grado responsabile del procedimento e l'ingegnere Damiano Galbo della Hydro Engineering con la Etatec di Milano e la Geodata di Torino per un importo di oltre 1.320.000 euro si è occupato dei servizi integrati di progettazione esecutiva per il nuovo impianto di depurazione a Castellammare. A marzo 2021 proprio alla presenza dello stesso subcommissario Riccardo Costanza delegato per l'attuazione degli interventi in Sicilia dal commissario straordinario unico Maurizio Giugni era stato firmato il verbale di avvio delle attività adesso consegnate con il raggruppamento temporaneo di professionisti affidatari a Hydro Engineering con Etatec e Geodata per l'esecuzione delle indagini specialistiche e della progettazione esecutiva del nuovo depuratore. L'opera è finanziata con 18.300.000 euro e assieme all'altro intervento previsto per il sistema fognario della frazione di Scopello progettazione esecutiva in affidamento consentirà l'uscita del glomerato Castellammarese dalla procedura di infrazione 2009-2034 aperta nei confronti dell'Italia per il mancato trattamento delle acque reflu in aree sensibili già in sentenza di condanna. Il progetto esecutivo prevede una spesa di oltre 30 milioni di euro che come ha fatto presente il subcommissario Costanza dovranno essere previsti per la parte aggiuntiva da struttura commissariale e Ministero dell'Ambiente. Riccardo Costanza ha sottolineato che in fase progettuale è stato minimizzato l'impatto ambientale e antropico che riguarda odori, rumori, impatto architettonico e di solo con una progettazione integrata che ha visto tante professionalità a lavorare nell'ottica di un impatto sul territorio che sia il minore possibile. Grazie. 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 Grazie.